Buongiorno a tutti, io sono Federico Mereta, non mi vedo ancora ma sicuramente appariremo tutti, faremo questa nostra chiacchierata, io partirei seguendo anche le parole del Sindaco Guzzi da un vecchio detto che diceva mia nonna, visto che siamo molto genovesi e dobbiamo parlare anche di una realtà di Genova che è molto specifica, mia nonna che viveva nella Valle Scrive, a una valle nell'entroterra genovese diceva, le bello veni i vegi ma le brutto essilo, tradotto per chi non conosce il dialetto, è bello diventare anziani ma è brutto esserlo, ecco io credo che il processo che dovremmo fare tutti assieme oggi con questa sessione dedicata a vaccini a ricerca che appunto siamo e soprattutto alle misure che sono fondamentali per mantenere in salute, aggiungere vita agli anni, visto che abbiamo aggiunto anni alla vita, come consiglia l'OMS sia proprio questo. E io chiederei a Sandra Zampa in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo e in effetti ce lo dimostra quanto noi oggi cerchiamo di fare in collegamenti tutti in remoto, che cosa succede e perché il Silver è una figura sempre più da tutelare in questo momento. interrompi video o no? Beh, non capisco. Attivate. C'è o no? Eccoci, buongiorno, sottosegretario. Mi vedevi anche o potrete sentirmi? Ora la vediamo, forse non vedevate me, ma non è una gran parte. Ma io la vedo, ma stavo intanto discutendo un'altra di voi, non avete, anzi, penso che voi ne abbiamo idea. Ahimè ne abbiamo idea, ci raccontiamo questo momento storico. Sì, anche i nostri uffici sono sotto una pressione davvero in cui ci si rende conto di quanto di più dovresti avere a disposizione, perché poi quello ti serve, vale per la sanità e vale anche per la pubblica amministrazione. Sicuramente. E che cosa ci può dire in apertura di questo nostro incontro proprio per capire che cosa deve succedere oggi per tutelare il più possibile le persone avanti con gli anni? Dunque, lei si riferisce in questo caso alla vicenda ovviamente all'epidemia in corso. Esatto, sì. Beh, io credo innanzitutto richiamare tutti alla necessità di farsi il vaccino anche influenzale, ma questo credo che questo messaggio sia passato, così come penso che invece non sia ancora sufficientemente chiaro a tutti che dai comportamenti individuali che dipende anche diciamo la tutela della propria salute e che quindi le persone anziane a cui, come lei sa, alla cui separazione dalle altre generazioni non mi sono personalmente opposta da sempre, anche in questa ultima, in questa seconda ondata, rispetto anche a messaggi molto, non solo mal formulati, ma anche mal pensati secondo me, io non penso che si debba o si possa immaginare per loro una figura e una restrizione interiore. Già stanno pagando un prezzo molto alto perché le relazioni personali, i rapporti personali e familiari sono diventati per loro un problema ancora più grande che per gli altri e quindi io credo che vadano se mai accompagnati con misure, per esempio per stare alla Liguria dato che tutti abbiamo bacchettato il Presidente Totti, però io ho trovato molto opportuno che sia stata messa a disposizione una quota rilevante per i buoni taxi, questa è una buona idea di non evitare che le persone anziane debbano trovarsi in realtà a contatto magari sugli autobus, sui mezzi pubblici, così come bisogna assolutamente sensibilizzare tutti riguardo al fatto che non possono in questo momento svolgere quella attività che li rende in realtà enormemente produttivi di sostegno al welfare delle loro famiglie, cioè diventare i babysitter quelli che tengono i bambini in questo momento assolutamente no. Certamente a loro va rivolto l'invito quindi a una particolare cautela all'utilizzo secondo me di mascherine più capaci di tutelarli, perciò io certamente tenderei a suggerire se avessi ancora una nonna o dei genitori anziani, purtroppo io penso tutti da molto tempo, di utilizzare anche mascherine più importanti. Certamente a loro sarà rivolta la prima, il primo giro di vaccino, il vaccino che AstraZeneca sta, di cui ieri anche AstraZeneca ci ha dato notizie abbastanza comportanti, oltre agli operatori social sanitari e le porte dell'ordine che come si sa vengono già considerate il primo target a cui mirare con il vaccino sarà poi alle persone anziane. Un importantissimo è anche la vaccinazione in questa fase, ma abbiamo cosco, è una cosa importante che venga ricordata a loro e anche una particolare attenzione a loro dei medici di base. Spesso in questa vicenda, mi dispiace molto doverlo dire, sono stati, allora diciamola così, diciamola in positivo, sono stati l'elemento vincente, ma sono state qualche volta, si sono rivelati nella medicina del territorio, nella medicina di base c'è stato l'anello spesso debole, perché poi se tutti corrono in ospedale al pronto soccorso è lì che succedono dei grandi disastri, non solo perché la pressione, gli ospedali non possono reggere una pressione di questo genere, che fa saltare tra l'altro tutto il resto delle prestazioni che invece sono indifferibili. Purtroppo i dati che sono stata costretta a fornire alla Camera una settimana fa proprio sul mancato, mancate screening, quindi il venir meno di una serie di presidi di tutela della salute pubblica e anche un minore accesso alle prestazioni sta portando a prevedere numeri molto più alti in altre patologie molto gravi, anche queste, a cominciare da quelle oncologiche. Quindi certamente credo che questo sia un impianto e che quindi anche i medici di base debbano svolgere nei confronti delle persone più anziane e dei target più vulnerabili. L'RSA ci sono ormai le linee guida, ci si aspetta che vengano rispettate, senza dover assistere a ciò che abbiamo visto tragicamente avvenire in marzo, febbraio, marzo scorso. Voglio aggiungere però un punto perché ci tengo molto, una cosa a cui ho, come dire, su cui anche insisto moltissimo con il Ministro. Vanno garantite però relazioni alle persone che stanno nell'RSA. Io penso che bastano pochi strumenti, anche a distanza, perché se una persona anziana, fragile, ormai è anche in una condizione di solitudine molto grande, ha la possibilità anche semplicemente con un iPad di vedere tutti i giorni il proprio figlio o figlia o i propri nipoti e di scambiarsi due parole. Questo è un elemento anche nella tenuta complessiva, psicologica, che è molto, molto più importante di quanto noi possiamo immaginare. Grazie, grazie al sottosegretario Zampa. Le chiederei una cosa, proprio in un minuto. Passata tutta questa buriana, questa silver economy, questo paese che comunque tende ad avere un'età mese alla popolazione che si alza. In che modo dovrà dare delle ricette perché gli anziani possano vivere bene la terza età? Guardi, una cosa che non ho detto, così la ringrazio di questa domanda. Lei sa che in questo momento sta lavorando qui e si è insediata una commissione apposta. Questa è una cosa che è molto, molto apprezzata. Anche questa è stata una decisione che il Ministro ha preso, è stata nel corso dei mesi, purtroppo in cui l'epidemia era arrivata a livelli più alti, è stata anche questo, è stato oggetto spesso di un confronto tra noi. Io credo che la sanità debba sempre di più, sapere prevedere anche con modelli predittivi e quindi anticipare con la prevenzione, con l'invecchiamentativo, con anche però immaginando anche progettando un modello diverso di presa in carico degli anziani e che questo debba avvenire integrando sempre di più il sociale e il sanitario. Su tutto questo sta lavorando la commissione che ha anche un'ambizione in più, che mi è molto piaciuta, che è quella di invertire anche tra in me un trend culturale. Mentre un tempo i nostri vecchi intanto avevano il coraggio di chiamarli vecchi e abbiamo persino forse nel linguaggio omesso di pronunciare questa parola, che un tempo era un segnale di nobiltà in qualche modo, la vecchiaia era una cosa stimabile, mentre abbiamo cancellato la parola, come se fosse brutto diventare vecchi, mentre non è brutto diventare vecchi, a parte che mio nonno mi diceva che è meglio diventare vecchi che non diventarlo, insomma, come minimo c'è un elemento di saggezza, ma c'è anche davvero da questo punto di vista la necessità di fare in modo che anche la cultura del paese è di un paese che sta andando appunto inevitabilmente sempre di più e lo sappiamo. Vorrei dire, avevamo detto non ci possiamo fare trovare impreparati rispetto al ritorno dell'epidemia, ma vorrei dire molto di più non ci possiamo fare trovare impreparati rispetto al fatto che diventeremo una società molto avanti con gli anni e dove le persone e la vecchiaia dovrà trovare un posto importante. Ci sono i giapponesi che sono come noi, che hanno un tasso di invecchiamento della popolazione, siamo noi con i giapponesi che stiamo facendo a gara su chi invecchierà di più in termini di popolazione. In Giappone credo che la vecchiaia abbia ancora un grande rispetto e quindi credo che prima di tutto bisognerà partire da quello. La Commissione sta lavorando molto attivamente, proprio ieri o l'altro ieri, chiedo scusa se non mi ricordo, ma è qui ormai è come una giornata unica diventata, ieri o l'altro ieri si è riunita e ha, ah ecco è qua, la Commissione ha fatto delle audizioni e ho sentito anche, l'ho vista andare avanti perché poi io ho potuto partecipare a poca parte dei lavori, ma mi sono poi confrontata con le persone che hanno potuto seguirla, io spero che da lì arrivino cose molto significative. Dentro questo Ministero c'è già in corso anche un confronto su questo tema dell'integrazione socio-sanitaria, è in nodo secondo me quando noi parliamo di terza età, perché spesso finiamo con il sanitarizzare oppure addirittura produrre una situazione che finisce con l'andare a carico del servizio sanitario, quando invece avresti potuto anticipare con qualche mossa strategica una condizione che non diventa patologia, questo vale per molte di queste, per molta parte della condizione degli anziani e anche io credo che lo sforzo che dovremmo fare sul lungo periodo è di tenerli il più possibile autonomi, dove questo sarà possibile magari con soluzioni abitative particolari, senza immaginare che esista soltanto come poi alla fine, soltanto questa sorta di semi diciamo segregazione o comunque di allontanamento definitivo dalla vita sociale e dalla vita normale diciamo così che è finire in una RSA. Bisogna che le persone che sono ancora in grado di avere una vita attiva siano messe nella condizione di poterlo fare davvero e diciamo con sicurezza. Grazie, grazie all'onorevole Sandra Zampa che è sottosegretaria al Ministero della Salute, a me viene in mente, guardi, capita di scrivere sul secolo XIX, a lungo è stata portata avanti proprio una pagina dedicata alla Silver Economy, ogni tanto c'erano queste tematiche a metà tra il sociale e il sanitario e io ricordo di aver fatto una pagina sulle bocce, sul vello del gioco delle bocce, perché significa in un unico passaggio fondamentalmente attribuire il rapporto con gli altri, l'attività fisica, il cervello e la coordinazione dei sensi, sembrano banalità ma tutti questi aspetti, riuscire a mantenerli in un ambito così importante è fondamentale. Ora torno un attimo sulla cronaca con Matteo Bassetti, perché stiamo vivendo ovviamente una realtà, quindi faremo questo salto tra gestione generale ottimale della terza età e quanto stiamo vivendo, perché Matteo Bassetti è in prima linea come direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino, proprio sull'approccio a quello che deve essere la gestione delle misure che sono necessarie adesso per preservare il più possibile le persone avanti con gli anni. Matteo, che ci puoi dire su che cosa bisogna fare? Ma allora, tanto grazie per l'invito e mi sono molto piaciute le parole del sottosegretario Zampa che trovo sempre molto equilibrata, molto competente e molto posante, nel senso che se andiamo a vedere la situazione, io guarda esco adesso dalle 41 stanze che ho alle mie spalle e discutevamo proprio con i miei collaboratori di quanto questa malattia, quando colpisca le persone con più di 75 anni, sia una malattia devastante. Noi praticamente abbiamo imparato che cosa fare con tutti quelli che hanno meno di 75 anni e che non hanno comorbidità, abbiamo imparato cosa fare, non vuole dire che qualcuno non possa andare male, è evidente che qualcuno purtroppo ancora va male, ma con gli altri, con la ventilazione, con i farmaci correndessi, il cortisone, l'eparina, diciamo che nel 99% dei casi riusciamo a vincere, con giù tra i 75 anni purtroppo abbiamo un grosso problema, che c'è una situazione di base, di fragilità di base che anche con i presidi più moderni e con i presidi migliori purtroppo la situazione non riusciamo a cambiarla. Questo era già presente prima, perché la mortalità o la morbilità o la devastazione delle malattie effettive, dall'influenza all'opneumococco per passare per la legionella o per le altre malattie che conosciamo, ha sempre avuto una letalità molto più elevata, ma è evidentemente ancora maggiore oggi di fronte al Covid che è di fronte agli occhi di tutti. Il Covid non ha fatto altro che portare all'attenzione della popolazione che prima pensava che le malattie effettive non esistessero, un problema che già conoscevamo, è chiaro che oggi abbiamo dei numeri enormi rispetto a quelli che abbiamo normalmente, ma l'opneumococco piuttosto che altri microorganismi dà dei problemi molto grossi nelle persone anziane, quindi secondo me oggi noi dovremmo potenzialmente guardare di più a queste persone anche per quello che riguarda le misure di prevenzione, va bene i vaccini, dobbiamo vaccinare per l'influenza, dobbiamo vaccinare per l'opneumococco, però devo dire che ho molto apprezzato le ultime misure del governo, del DPCM con la divisione in fasce, però probabilmente sarebbe stato opportuno anche guardare a una divisione in fasce per quanto riguarda degli aiuti, che non vuol dire confinarli a casa, vuol dire probabilmente cercare di differenziare, perché io stamattina venendo a lavorare mi sono divertito a guardare chi c'era sull'Atrus che prendeva mio figlio, mio figlio figlia l'Atrus alle 7 e mezzo, sapete chi c'era la fermata dell'Atrus davanti a casa mia? C'erano due ragazzi e c'erano tre oltre a settantenni sicuramente, allora io mi chiedo ma perché alle 7 e mezzo devi prendere l'Atrus, perché io dico che tutto, non voglio dire che bisogna rilegare in casa nessuno, però perché alle 7 e mezzo chi non ha da regalci in un posto di lavoro alle 8 deve prendere l'autobus insieme a chi invece ha un orario molto ristretto, allora per esempio una differenziazione di orari con dei percorsi preferenziali attraverso i voucher sui taxi, attraverso i noleggi con conducente o attraverso anche gli stessi trasporti, credo che potrebbe essere un'iniziativa che mette in sicurezza o comunque cerca di mettere in sicurezza quella che oggi, ricordiamoci, se ci dimentichiamo questo punto, è la categoria di persone che viene maggiormente colpita da questo virus, perché dal punto di vista delle conseguenze importanti e dal punto di vista della letalità, quindi credo che dobbiamo necessariamente andare verso questa direzione. Il secondo punto, secondo me molto importante che ha detto il Sottosegretario di Stato è condivido al 100%, e io mi sono preso anche a briga di andare contro ad alcuni ordini anche della mia regione, è l'isolamento delle persone anziani, io ho un reparto dove ho la fortuna di avere 8 stanze che hanno un corridoio esterno, cioè la possibilità di visitare il paziente attraverso un corridoio esterno. Allora noi abbiamo il divieto di far entrare all'interno giustamente del reparto i visitatori, ma noi abbiamo mantenuto la possibilità che le persone, soprattutto quelle più anziane, abbiano qualcuno che li vada a farli vedere almeno dal vetro, perché le persone anziane se gli facciamo vedere i parenti da un tablet o da un iPhone, non sono giovani che ormai sono abituati a fare la chiamata con il face time, hanno bisogno di vedere fisicamente, anche attraverso un vetro le persone e credo che avere in qualche modo chiuso completamente la possibilità di avere visitatori, soprattutto nelle RSA, nelle strutture assistenziali, alla fine non so quanto abbia giovato, perché sì che non gli abbiamo fatto morire il coronavirus, ma magari gli abbiamo fatti morire di solitudine, che è forse anche peggio. Grazie, grazie a Matteo Bassetti, poi magari ne parleremo perché in effetti credo che anche dal punto di vista politico sia da capire quale deve essere l'ottimale integrazione tra sociale e sanitario, perché poi alla fine il grande problema che è uno dei tanti grandi problemi che Covid-19 ha slatentizzato e che ci sta insegnando comunque, perché si può anche cogliere pur con tutto il malasma che ci crea come un'opportunità di crescita, è comprendere tutti questi passaggi che stiamo elencando e vedere davvero come dare un benessere il più possibile a 360 gradi alla persona anziana, perché altrimenti si rischia di dire se io seguo l'aspetto fisico in modo che la persona stia al meglio possibile e magari mi dimentico di aspetti, quello che diceva Matteo Bassetti è fondamentale, il rapporto umano, il rapporto con gli altri, perché poi anche solo dal punto di vista dell'attività cerebrale, poi lo chiederò al Professor Barbagallo, cosa vuol dire avere un approccio alla terza età che sia globale è sicuramente fondamentale. Chiamo in causa Giovanni Rezza che ci ha raggiunto, che è il Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute. Perché? Perché in questo momento Giovanni credo sia importante capire che cosa dobbiamo fare, i 4-5 consigli fondamentali in termini di prevenzione che si debbono dare alla terza età. Prego Giovanni. che vedo ancora muto. Ok. Io non lo sento, ma… ok. Il Dottor Rezza è collegato, ma probabilmente non è al momento al monitor, magari… Ok, lo riprendiamo dopo. …Barbagallo e lo richiamiamo della… Grazie molte. Professor Barbagallo, questa unione di intenti tra mente e corpo per la persona anziana, quanto è fondamentale? In questo periodo, ma più in generale in senso globale. Poi voi internisti, mi permetto di dire medicina interna e geriatria, perché siete quelli che vedete un po' di più la persona anziana in tutte le sue componenti. Consideriamo, lo accennava Matteo Bassetti, per le persone anziane tante volte, soprattutto in quest'epoca, il problema si chiama anche comorbidità, cioè avere diverse situazioni che vanno seguite, ricordarsi di prendere i farmaci, avere comunque una vita e magari dover cambiare anche dei ritmi che ormai si sono strutturati e assestati nella vita. Grazie dottor Mereta, è un tanto un piacere essere qua. Poi ho sentito con grande piacere le parole del sottosegretario onorevole Zampa, con cui eravamo insieme proprio due giorni fa in questa commissione che mi fa piacere abbia ricordato che si sta occupando proprio di tutti questi temi dell'assistenza all'anziano a 360 gradi, non soltanto sanitari, anche sociali. Tra l'altro in particolare io come anche componente del Consiglio Superiore di Sanità abbiamo lavorato un documento che sarà acquisito dalla commissione che si occuperà a 360 gradi proprio di questi argomenti. Tuttavia, prima di parlare del lato positivo dell'invecchiamento, perché l'invecchiamento non è soltanto senectus ips amorlus, come dicevano gli antichi, ma invece è sempre più tanti aspetti positivi. Devo precisare, anche io sono direttore di un dipartimento Covid e devo dire che il fattore età è soltanto una parte del problema Covid, perché il problema è più importante è proprio la comorbidità. Oggi vediamo anche tanti giovani con comorbidità che hanno delle conseguenze. Quindi è su questo, mi è fatto piacere che l'abbia ricordato l'onorevole Zamp e sono perfettamente d'accordo con il sottosegretto Zamp. Parlare di età è veramente preistorico. Dobbiamo parlare di funzione fisica, di funzione mentale, di capacità funzionale e a prescindere veramente dall'età. Io vorrei quindi oggi parlare dei lati positivi che ha l'invecchiamento, parliamo di silver economy e questa è la parte nuova del nostro tempo. Se posso condividere alcune diapositive che, eccole qua, della silver economy, si vedono diapositive? Sì. Dunque, è una parte importante dell'economia che riguarda i soggetti anziani ed in diversi settori, in periodo, fino al 40% del prodotto interno lordo ed è stato cambiato questo termine, silver economy, su cui il vostro convegno è importante e si basa proprio perché l'economia ha delle dimensioni enormi, in questo momento 3,7 trilioni di Euro che diventeranno nei prossimi 5 anni fino a diventare 6,4 trilioni di Euro. È addirittura la terza economia più grande in Europa dopo quella degli Stati Uniti e la Cina. Soltanto a cui dati epidemiologici, come introduzione al convegno di cui si parla nei prossimi 3 giorni, oggi abbiamo quasi 23% di over 65 antiani che diventeranno ancora di più nei prossimi anni e abbiamo anche oltre il 7% di over 80 anni, quindi un numero importante. Vedete quello che succederà nei prossimi anni, parliamo fino al 33-34% di over 65 anni, non so se si vede bene la dipositiva e 8-9% di over 80 anni, quindi un'incidenza importante e potenziale del mercato, 17 milioni sono diciamo in questo momento, 17-18 milioni diventeranno 23-24 milioni nei prossimi 20 anni. Tant'è vero che negli Stati Uniti oramai si parla proprio di longevity iconico, questo è uno studio della Oxford Economics, come le persone over 50 possono pilotare, driving l'economica, la potenziale economica degli Stati Uniti e l'economia della longevità è un modello proprio di prosperità economica e di innovazione dei nostri tempi. Questo è un dato secondo me molto importante perché noi ricordiamo la crisi del 2008-2012 che ha portato una serie di problematiche importanti nel nostro paese e in tutto il mondo e vedete quello che è successo nel Stato Famiglia in Italia, vi sono dati dell'Istat, vedete che nel 65 anni non c'è stata questa perdita economica che c'è stata in altre fasce in altre fasce di età. Vedete come in verde gli over 65 hanno mantenuto la loro capacità economica, mentre invece le altre fasce, tutti i più giovani, hanno avuto una perdita economica importante e questo è un dato di fatto su cui bisogna secondo me ragionare. la silver economy in questo momento ha una base economica importante, una ricchezza media intorno a 250 mila Euro nel 40% tra i 55 e i 65 anni e nel 30% over 65, quindi molto spesso hanno un reddito con un potere d'acquisto anche importante che ci fa capire la potenzialità di questa silver economy. Quindi stanno diventando sempre di più, questo convegno è proprio che deve essere visto in termini positivi, non soltanto in termini negativi, con nuovi target del marketing, perché i nuovi anziani, a prescindere dall'età, con la loro funzione fisica, sono i più in salute, i più attivi, i più longevi della storia dell'umanità, hanno spesso una buona pensione e per cui sono anche un obiettivo importante del marketing. Quindi l'obiettivo nostro degli internisti, dei geriatrici, dei medici è proprio di sostenere l'invecchiamento attivo, mi fa piacere che l'onorevole Zampa lo abbia segnalato, per mantenerli nella forza lavoro il più a lungo possibile ed ovviamente, questa è la seconda parte, i servizi chiave come la sanità e l'assistenza debbano ottenere il loro passo. L'importante è quindi avere un'aspettativa di vita in salute, non soltanto un allungamento della vita che abbiamo ottenuto, ma un allungamento in salute, perché i nostri anziani sono sempre di più fisicamente in salute, creativi, hanno anche spesso un potere economico e commerciale, sono attivi, indipendenti e dobbiamo mantenerli così il più a lungo possibile. Non possiamo parlare di anziani soltanto per questioni di età, ma dobbiamo invece parlare, abbiamo tanti anziani che sono assolutamente in condizione di contribuire in maniera importante anche sul mondo del lavoro, l'amico Bassetti è ancora il giovane, però ci sono tanti anziani ancora in salute. Quali sono i quattro pilastri della salute dell'anziano? L'esercizio, l'ha ricordato molto bene il dottor Mereta, la dieta, l'alimentazione, lo stress e anche gli affetti sono molto importanti, l'anno scorso ho parlato proprio del ruolo dell'amore e del sesso nell'anziano, quest'anno non abbiamo il tempo di soffermarci su questo argomento, però per esempio l'attività fisica è di grandissima importanza e questi sono alcuni degli esercizi che noi facciamo fare ai nostri anziani. Quindi questa silver economy, intanto un punto importante, la seconda fascia, vedete come gli anziani da essere inattivi passeranno dal 4 a 1 a 2 a 1, quindi il 50% del 2060 sarà attivo ed ovviamente i costi sanitari aumenteranno e però questo deve essere tenuto al passo del mondo del lavoro. Quindi gli anziani anche come forza lavorativa, tra l'altro gli anziani non hanno più nutri da pagare molto spesso, quindi abbiamo visto che hanno una maggiore quantità di denaro, c'è un numero sempre più grande di imprenditori anziani, molti anziani possono cimentarsi in nuove attività lavorative, hanno avuto un buon pre pensionamento, quindi si parla sempre di più di imprenditori della terza età e l'impatto economico non è soltanto quello diretto, ma anche quello indiretto e l'indotto che generano, vedete non mi soffermo su questo ovviamente in un ambiente economico, però non è soltanto le aziende che hanno un impatto diretto sulla città dei coni, però le catene di pre pensionamento, l'indiretto, l'indotto, i posti di lavoro degli impiegati che ne lavorano, quindi è un business veramente trilionario che non può essere confinato assolutamente. Quali sono questi dati su cui gli settori maggiormente interessati? La sanità l'abbiamo vista, i trasporti, lo svago, i beni e i consumi, forniture, il commercio, le telecomunicazioni, su questo ci soffermo successivamente, vedete che gli anziani spendono tanto, soprattutto riguardo all'abitazione, ma anche la moda, si vogliono, parlavo poco fa del tenersi in forma, moda e cosmetici, vengono utilizzati tantissimo dagli anziani e spendono, ripeto, tanto anche nelle spese per la salute. Vedete, abitazione, la media in Italia in questo momento, quasi 1000 Euro per l'abitazione, trasporti, spese sanitarie, mobili, dichiarazione, abbigliamento, servizi ricettivi, comunicazioni, vedete istituzione, anche di questo accenneremo, vedete che indotto enorme che può creare la silver economy, quindi ancora mi fa particolarmente piacere fare parte di questo convegno che si dedica a questa parte dell'economia. Spendono di più, dicevo, in silver, in servizi sanitari, in servizi ricreativi e culture, in articoli per la casa, dicevo anche per quanto riguarda i farmaci. Faccio vedere l'anno scorso l'aumento che tra i farmaci, c'è stato un aumento enorme proprio nei farmaci usati nella disfunzione rettile, proprio a testimoniare che gli anziani hanno sempre più un interesse importante nell'amore e nel sesso. E l'altro punto importante, i servizi digitali, ne accennava l'onorevole Zampa, sottosegretario, perché i servizi digitali sono estremamente importanti per l'accessibilità, rinunzione della vista, salute, restrezza, prestazioni cognitive. Quindi una serie di settori avranno un particolare beneficio dall'enorme numero di persone anziane in buona salute che aumenterà nei prossimi anni e già molti centri commerciali si stanno adeguando. Abbiamo parlato dell'IF, dello smart home, del robot che possono in parte aiutare a sostituire intermedie badanti. Questi sono dati dell'European Commission che mostra alcuni di quei settori. Professore, la pregherei di andare verso la chiusura così poi sentiamo anche Giovanni Rezza. Però questo punto credo sia importante perché riassume un po' quello che noi abbiamo detto fino a letto, una piattaforma per, anzi questa direi che proprio può essere anche l'ultima di appositiva, perché proprio riassume i settori più importanti della silver economy. di appositiva, il digitale, gli anziani che fanno impresa, macchine e automobili sempre più per gli anziani, le università, quindi la cultura dell'anziano, il benessere e anche lo stile di vita, gli ambienti, le città, su questo si potrebbe fare proprio un convegno sulle città a misura di anziano. Il turismo, la robotica, la connessione digitale, questi sono tutti i settori su cui in ciascuno di questi potremmo fare una sessione e un convegno, ma su cui credo che sia importante segnalare la possibilità di sviluppo enorme che avranno nei prossimi anni. Quindi anziano non soltanto come peso per la società, ma anziano come fonte di sviluppo, di economia e di aiuto proprio all'economia del paese. Longevity economica. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie, grazie professor Barbagallo. Noi abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora, 20 minuti per chiacchierare. Ho visto che è arrivato Giovanni Rezza che è direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute. Dalle parole del professor Barbagallo Giovanni è emerso chiaramente come la prevenzione sia un valore, prevenzione dal punto di vista sociale, prevenzione dal punto di vista anche ovviamente sanitario. In un momento come questo già l'onorevole Zampa ha accennato l'importanza delle vaccinazioni per influenza, pneumococco eccetera. Matteo Bassetti ci ha un po' spiegato il percorso che l'anziano in chiave di prevenzione dovrebbe avere anche nelle abitudini di vita, ad esempio non prendere i mezzi la mattina alle sette e mezza. Dal tuo punto di vista quale può essere l'approccio ottimale in una fase come questa, ma più in generale per l'anziano di oggi e di domani? Intanto che si parli di anziani è bene, meno male che abbiamo tanti anziani perché vuol dire che la vita, la speranza di vita nel nostro paese si è allungata di molto. Dopo è chiaro che una società in cui si è predominante dal numero di anziani è una società che comunque sia si deve porre questo problema e l'abbiamo visto anche in questa crisi Covid, insomma quanto una società anziana dopo sia possa rendersi fragile di fronte ad eventi inattesi. Dal punto di vista della prevenzione io credo, avete parlato di vaccinazioni, è stato fatto molto, soprattutto nel settore delle vaccinazioni. Ricordiamo che dietro l'impulso di quello che è stato un po' il calendario per la vita, messo a punto da diverse società scientifiche, il Ministero della Salute varò quel piano nazionale di prevenzione vaccinale del 2017-2019 che resta un po' la bibbia, diciamo, delle vaccinazioni in Italia. Un calendario vaccinale particolarmente innovativo, un spettro di vaccini inseriti in elea, quindi offerti attivamente e gratuitamente a tutte le età della vita. Come la sottosegretaria Zampa evidentemente ricordava, io purtroppo mi sono dovuto pregare adesso, sono giorni piuttosto concitati, sono mesi concitati, un anno concitato, questi sono giorni concitati all'interno di un anno particolarmente duro. Però i vaccini contro la triade maledetta dell'anziano, influenza, pre-omococco e zoster sono presenti nel nostro calendario ormai da tempo. Uno dei problemi che si è posto è quello del caso o per lo meno del mancato aumento delle coperture vaccinali negli adulti e negli anziani, perché a causa dell'emergenza Covid o anche per la paura ad afferire alle strutture sanitarie, un po' perché i servizi territoriali sono stati messi a dura prova durante questi mesi, con personale spostato magari dai servizi vaccinali di screening verso il controllo e contenimento dell'epidemia di Covid-19, questo ha fatto sì che si creassero sostanzialmente dei servizi con conseguente diminuzione delle coperture vaccinali, non tanto che non ha tanto riguardato le vaccinazioni dell'infanzia, queste relative ai vaccini obbligatori tanto per intendersi, quanto proprio le vaccinazioni dell'anziano ma anche dell'adolescente, per esempio non stiamo andando bene con l'HPV. Per quanto riguarda l'anziano, noi sappiamo che abbiamo delle coperture vaccinali per l'influenza che non sono mai stati ottimali, abbiamo superato di poco il 50%, quindi poco più di un anziano su due si vaccina contro l'influenza ogni anno, per l'opremococco le cose sono di andare un po' meglio nel corso degli anni, per lo zoster non ne parliamo, abbiamo delle coperture vaccinali che sono assolutamente insoddisfacenti. Chiaramente questo problema è stato acuito durante questi mesi, giustamente gli anziani uscivano poco di casa e quindi pretendere che andassero nei centri vaccinali, perché sono vaccini antinfluenzali, fatto per esempio dal medico di medicina generale, gli altri bisogna rivolgersi a servizi appositi. Chiaramente questo ha comportato un mancato momento delle coperture vaccinali e può rappresentare naturalmente un problema. Il Covid ha anche messo in dura prova i nostri anziani e abbiamo visto come una popolazione anziana possa avere dei tassi di identità che sono più elevati rispetto a quelli di una popolazione più giovane. Se facciamo il confronto tra Italia e Cina, dove la composizione per l'età della popolazione sicuramente è diversa dalla nostra, abbiamo visto che i tassi di identità e di mortalità sono molto più elevati, sono stati più elevati in Italia che non per esempio in Cina e questo è spiegato in gran parte dalla diversa distribuzione per età, per fasce di età della popolazione. Adesso c'è un gran parlare su come difendere gli anziani per esempio da questa epidemia di Covid. C'è qualcuno che dice che bisogna fare delle misure età specifiche, misure età specifiche vorrebbe dire che noi facciamo correre il Covid nelle altre fasce di età e cerchiamo di preservare gli anziani, quindi sostanzialmente li mettiamo in una bolla di vetro, sotto una cappa di vetro e non li facciamo muovere, non li facciamo vedere i ragazzini, non li facciamo vedere i figli, i nipoti, la spesa che la si porta a casa, passandola sotto, aprendo la porta e richiudendola subito dopo. Se questo è il modo per proteggere gli anziani, certamente la modalità, in una struttura familiare come quella italiana è un tantissimo più difficile rispetto al nord Europa, ovvero in questa maniera, non ne siamo abituati, i ragazzini magari ritengono i nonni, in questo momento naturalmente bisogna stare più attenti, c'è poco da fare, però chiaramente la separazione fra generazioni da noi è meno forte che non in alcune società del nord Europa. La maniera migliore per proteggere gli anziani è non far circolare il virus, farlo circolare a bassa intensità in tutta la comunità, dopodiché possiamo prestare particolare attenzione per proteggere gli anziani, quindi insomma se posso, o non andare a fare la spesa o quando vanno a farla proteggersi con mascherine appropriate, se possono evitare troppi contatti anche con i figli o i nipoti, per carità tutto questo facciamo, però non si può pretendere di far circolare il virus indisturbato e proteggere solo gli anziani, perché probabilmente la struttura sociale e socio familiare come quella italiana non sarebbe un meccanismo molto efficiente. Gli anziani però lo stanno facendo, perché abbiamo visto che gran parte di questa seconda fase di epidemia, io non parlo di seconda ondata perché noi abbiamo interrotto la prima ondata, dopodiché è ripresa la prima ondata, tutti quanti, le persone di buon senso naturalmente si aspettavano, non abbiamo monitorizzato il virus, non abbiamo visto particolari mutazioni, un virus non cambia le proprie caratteristiche se non muta molto, sarebbe quasi logico dirlo, pensarlo, semplicemente abbiamo visto gli effetti del lockdown, sono durati molto, dopo l'estate un po' aiuta, per carità si vive di meno in luoghi affollati, chiudono le scuole, chiudono uffici, insomma c'è un distanziamento sociale naturale dell'estate, però dopodiché c'è stata una bella ripresa di quell'ondata epidemica e abbiamo visto che in questa ripresa è stata molto sostenuta dai giovani, dalle fasce di età più giovanili. Gli anziani sono stati relativamente poco colpiti, li vediamo colpiti nell'RSA per carità, perché se il virus entra in un'RSA purtroppo fa danni, ma vediamo che i casi nella comunità sono stati relativamente pochi fino a dura, perché un po' si sono autoprotetti, diciamo la verità, bisogna continuare a far sì che si autoproteggano, ma anche a proteggerli. Quindi insomma questa è la nostra società di anziani, ne abbiamo tanti, per fortuna sono una ricchezza, per fortuna perché vuol dire che si può campare pure a lungo evidentemente, insomma dobbiamo aiutarli a campare a lungo e con una buona qualità della vita. Grazie, grazie anche per le parole di saggezza di Giovanni Rezza, tutto questo nostro incontro di oggi è molto portato sul positivo come deve essere, perché poi io ho iniziato parlando di mia nonna che diceva in qualche modo è bello venire vecchi, ma è brutto esserlo, noi dobbiamo fare in modo che questo brutto esserlo diventi il più bello possibile. Farei un brevissimo giro con le domande che sono arrivate, partendo da Matteo Bassetti, abbiamo ancora proprio 8 minuti, 8-9 minuti, quindi risposta è flash e cerchiamo di rispondere a tutto. Matteo, si dice un approccio specifico per gli anziani, ecco dal punto di vista clinico, voi avete delle attenzioni e delle cure particolari per i pazienti con Covid, in questo caso anziani che vengono ricoverati? Ma guarda, il protocollo di cura che noi utilizziamo è il medesimo, quindi noi interveniamo con i farmaci che conosciamo, cioè fondamentalmente quelli che oggi sono raccomandati nelle guide internazionali, il Rendesevir se arrivano entro i 10 giorni dall'esordio dei sintomi e se hanno una insufficienza respiratoria, il cortisone che è utilizzato nelle fasi più avanzate di malattia e qui consentimi di dare un messaggio perché vedo tanta confusione oggi, ma tantissima, noi riceviamo pazienti pasticciati a casa da terapie fatte male, autoprescritte o prescritte da persone che non hanno una minima idea di che cosa voglia dire gestire questa infezione, che prescrivendo eparina, cortisone, antipiretici pensano di fare il bene del paziente, nella realtà stanno facendo il suo male, noi riceviamo molti malati che probabilmente se non avessero fatto questi farmaci, sto parlando di anziani, sarebbero andati molto meglio, perché quando si usa il cortisone troppo precocemente si va a fare il male del paziente, perché anche quella poca risposta che il malato anziano ha, finiamo di andargela a interrompere sul nascere, da stare molto attenti all'uso dei farmaci, quindi i protocolli che noi usiamo negli anziani sono esattamente gli stessi che usiamo, per i giovani è chiaro che nell'anziano c'è un problema, la compliance ad alcuni mezzi di ventilazione che ne utilizziamo, per esempio i caschi, è evidente che non è esattamente la stessa che può avere un soggetto giovane, cioè quando tu metti il casco a una persona anziana di 80, 85, 90 anni non è così semplice tenerlo, perché magari c'è da parte del soggetto stesso una minore accettazione, però consentimi di dire una cosa che Gianni ha detto, una cosa giustissima, le vaccinazioni, ma sai che io ho di là almeno 10 ultraottantenni e nessuno è vaccinato per lo primo cocco, allora questo è scandaloso, scandaloso che in Italia nonostante che il vaccino sia offerto gratuitamente, nonostante che abbiamo fatto campagne vaccinali, ci siano ancora una fetta enorme di ultra settantenni, ultra 65 anni a cui il vaccino è offerto gratuitamente, è portato negli studi dei medici che non si siano vaccinati, quindi bisognerebbe che il Covid ci nascerà anche qualcosa di più sulle malattie effettive, cioè che la gente, che i nostri colleghi medici si rendano conto dell'importanza delle vaccinazioni, perché vedere così tanti anziani oggi non vaccinati per lo primo cocco, oltre che per l'herpes, oltre che per molte altre rinfluenze evidentemente, non essere vaccinati oggi per lo primo cocco mi fa molto male. Grazie Matteo, io faccio outing… È vero Matteo, io ho fatto influenza al primo cocco quest'anno, così ho dato una bella botta al sistema immunitario. Gianni pure io ho fatto lo pneumococco, l'influenza me la devono ancora fare perché vado dal medico di famiglia, ma ho fatto lo pneumococco, quindi qualche messaggio passa. Gianni Rezza, in un minuto, quando arriva questo vaccino per Covid? In un minuto, perché siamo raffreddati. No, noi speriamo presto, nel senso che ormai abbiamo diversi vaccini in fase 3 di sperimentazione, quindi molto avanzata. Adesso, io credo a metà novembre, uno di questi, non faccio nomi naturalmente, ma almeno uno, almeno uno di questi, forse due, andranno incontro ad una interim analysis, quindi si comincerà a vedere se hanno degli effetti, qual è l'efficacia. a me piacerebbe veramente che l'interm analysis dicesse, oè, adesso stoppiamo perché stiamo vedendo che quelli che fanno il placebo vanno molto peggio rispetto a quelli che, ovvero si rispettano molto di più rispetto a quelli che invece vengono vaccinati. Però, allora, è chiaro, i risultati sono da valutare. Siamo in termini di efficacia, adesso a parte gli scherzi, che di sicurezza. Io penso che entro fine anno avremo qualche risposta. Dopodiché, quando arriva il vaccino? Allora, può anche arrivare la disponibilità delle prime dosi di vaccino? Adesso io la butto lì, eh, ma fine anno, inizio dell'anno prossimo, primo trimestre dell'anno prossimo, quando volete. Il problema, però, non è che come il vaccino, tra virgolette, arriva sarà disponibile per tutti, perché ci sarà una prima fase, sarà più dura anche da un punto di vista comunicativo affrontarla, in cui si renderà disponibile a piccole dosi, ci saranno disponibili poche dosi di vaccino. Allora, lì bisognerà dare, allogare le priorità, e stiamo valutando in questo momento. Le priorità potrebbero essere gli anziani, appunto, gli operatori sanitari. Dopodiché, dopo questa prima fase, ci sarà uno scale up, un aumento della produzione di vaccino, e quindi il numero di dosi aumenterà. Allora, a quel punto potremmo vaccinare più persone. Quindi, questo è il punto. Il vaccino potrebbe arrivare, potrebbe arrivare nella prima metà, nel primo trimestre, voglio sperare il prossimo anno, io spero a gennaio piuttosto che alla fine di dicembre piuttosto che a febbraio, però, ecco, abbiamo visto che ci sono molti studi che dicono, sì, gli anticorpi si perdono, ma ce ne sono altri che dicono, dipende dal tipo di anticorpi che cerchi, perché ce ne sono di quelli che durano, che hanno una durata piuttosto lunga, quindi io sono fiducioso da questo punto di vista. Naturalmente, però, c'è un problema di, come direi, farne tanto, produrne tanto di vaccino in poco tempo e somministrarlo in poco tempo, e questo sarà uno dei problemi da risolvere. Sì, io ricordo perché mi è toccato, ho scritto un pezzo, proprio in questo periodo, ricordando l'esperienza del professor Crovari, giusto, che raccontava la prima vaccinazione di massa sulla poliomelite, 1963 mi sembra, e praticamente come il sistema si sia organizzato per fare in altre epoche, e in questo gli anziani ci insegnano, veramente un processo di vaccinazione rapidissimo, molto importante. 30 secondi per ognuno per chiudere, professor Barbagallo e sottosegretario Zampa, a Yave Dream, al convegno tra 2-3 anni, quando non parleremo, speriamo solo di Covid, o magari ne parleremo come di un ricordo, che cosa sarà cambiato nel vostro sogno per la terza età? Il sogno è quello della commissione per anziani di cui parlavamo prima, cioè di aumentare i servizi territoriali, di spostare sempre di più l'assistenza dell'anziano dall'ospedale al territorio. Da questo punto di vista le innovazioni tecnologiche, la digitalizzazione, sicuramente la robotica, la tecnologia, la tecnoassistenza, sicuramente daranno un supporto importante, però dall'alto noi dobbiamo, lo Stato in generale, cercare di creare delle città e degli ambienti a misura di anziano, cioè di persone meno abili, quindi soprattutto per i più anziani. Grazie, è quanto aveva preconizzato il sindaco Bucci nella sua introduzione. Onorevole Zampa, a ieri Dream, chiudiamo con un messaggio positivo per tutti. Barbagallo ha rubato il mio di sogni, nel senso che io credo esattamente queste cose che… Io penso che se la metà delle cose che la commissione ha in corso, come realizzazioni, potranno andare a regime, penso che avremo fatto una cosa importante, che rendere, restituire un po' di felicità, credo, e anche un po' di serenità ai nostri vecchi e così che possono giocare a bocce con molta… diciamo che ci siano anche spazi nelle città, in cui ci si ricorda che si può giocare a bocce e che divertirsi alle volte e avere delle ore di serenità e di felicità è una cosa molto importante, che gli venga garantita questo spazio. Grazie, grazie a tutti. Io ringrazio ovviamente Sandra Zampa, Giovanni Rezza, Matteo Bassetti e Mario Barbagallo. Il prossimo evento del convegno è alle 11.30. Io vi lascio, visto che ho iniziato con una… Io vorrei ringraziare tutti, sono molto interessanti che ho sentito. Ringrazio molto davvero e magari ci torneremo a incontrare in presenza e grazie Dottor Bassetti anche per quello che fa, Gianni noi ci vediamo tutti i giorni, Professor Barbagallo e grazie a lei, grazie a voi molte. Grazie, io chiudo con, visto che ho iniziato, con una frase in genovese, perché siamo a Genova, comunque anche se virtualmente siamo un po' da tutte le parti, però posso dire un suono del cassetto, l'alternativa all'RSA, i villaggi per anziani. Ok, villaggi per anziani, Gianni. Le comuni per gli anziani. L'avevamo testa, Gianni, mentre tu non eri ancora collegato. Perfetto, perfetto. Allora lo confermo anch'io. Ok, è bellissimo perché tutti ci stiamo disegnando un sogno, perché poi tutti fortunatamente e officabilmente andremo verso la terza età, che poi è il messaggio. Allora vi lascio con questo messaggio in genovese, che dice Veni vegi a Lena Mussa, che Mussa, ricordatevi che Matteo l'ha capita, però gli altri, Mussa in Veneto è la moglie dell'asino. A Genova è la storia non vera, quindi ricordiamoci, diventare vecchi è una cosa che non esiste, siamo sempre noi, cerchiamo di prevenirci, cerchiamo di stare bene, Matteo ti è piaciuta, me l'hanno scritta. Ah sì, mi è piaciuta, anche se bisogna dire che Mussa vuol dire anche un'altra cosa. Eh lo so, lo so, però questa non la specifichiamo, è importante il senso del professor Barbagallo che diceva… La Mussa è la femmina del Belin anche. Esatto, praticamente il professor Barbagallo diceva continuiamo ad avere una vita completa, anche sotto l'aspetto sessuale, ed è la seconda chiave di lettura di Mussa. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro. Ciao.